Le sue impressioni su Grillo? No! Grillo ha rinunciato al numero 3 Ha fatto bene! Ha preso il 17 perché porca maiale è meglio! Non ha voluto il 3 Stanno ha rinunciato al numero 3 Ha rinunciato al numero 3 Ha preso la pressa! No! Dove sta arrivando sui figli? Vai Grillo! Non è bello, è il consiglio di traguardo Con il tempo di 50 e 13 E qui un brillo Corre per il salto Perché è il mio tempo realizzato Il mio tempo è in prova Con 50 e 13 Rappando il suo voto Ho fatto bene Ho fatto bene Ho fatto bene